Il Centro Gianni Oberto del Consiglio regionale ha bandito un concorso per il conferimento di tre borse di studio destinate a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso l'Università Piemontesi per tesi di laura quadriennale del Vecchio e del Nuovo Ordinamento conseguite negli anni dal 2008 a 2012 riguardanti il Piemonte nella letteratura italiana, letterature in lingua piemontese nelle lingue minoritarie, cultura popolare e teatro. Al primo elaborato verranno assegnati 1200 euro e la pubblicazione della tesi che costituirà il primo volume della collana Centro Gianni Oberto la distribuzione alle biblioteche piemontesi e il diploma di attestazione Al secondo e al terzo, oltre al diploma, andranno rispettivamente 1200 e 600 euro Il regolamento e la domanda sono scaricabili dal sito del Consiglio regionale del Piemonte Grazie a tutti!